Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo in Ancona perché sta per partire la dodicesima edizione di Marcangolo, il più importante congresso marchigiano in ambito oncologico. Si tratta di un meeting multidisciplinare che interessa tutti i professionisti con a carico pazienti oncologici. Seguiranno le nostre telecamere questo webinar in diretta e adesso andiamo subito a conoscere i protagonisti. Buongiorno a tutti e benvenuti a Marcangolo 12, l'appuntamento dell'oncologia marchigiana che si propone di fare il punto a fine anno delle novità scientifiche emerse nel corso dei 12 mesi precedenti. Un appuntamento atteso che è sempre stato itinerante, abbiamo toccato negli anni tutte le città in cui sono presenti le oncologie marchigiane ma che quest'anno in modalità virtuale ha un tema speciale, domani è un altro giorno. Ce lo auguriamo vivamente perché questo periodo pandemico sta mettendo a dura prova le oncologie ma in particolare sta mettendo a dura prova i pazienti e pazienti oncologici sono tra i pazienti più fragili e quindi dobbiamo continuare con energia, con la ricerca, con le buone pratiche cliniche condivise a prenderci cura di loro. Grazie ad un parterre assolutamente di rilievo, abbiamo esperti nazionali e tutti gli esperti regionali che si occupano delle varie patologie, affronteremo nel corso delle varie sessioni dei momenti importanti per fare appunto il punto della situazione su tutto ciò che è emerso nelle varie patologie e nelle varie terapie nel corso di quest'anno in modo specifico. Un anno in cui non ci siamo mai fermati, abbiamo condotto anche dei progetti di ricerca condivisi, anche dell'oncologia marchigiana che hanno dimostrato come le oncologie anche in questa fase pandemica sono riuscite a riorganizzarsi, nel 93% dei casi hanno dovuto cambiare la loro organizzazione ma lo hanno fatto con un riscontro positivo da parte dei pazienti, pur con le difficoltà che hanno comportato ovviamente difficoltà personali sia negli operatori che nei pazienti si è riuscita a dare risposta anche inventandoci nuove soluzioni, anche praticando soluzioni innovative come quelle della telemedicina che ci permettono di stare vicini ai pazienti anche a distanza, cercando di non dilazionare quelle che sono le prospettive terapeutiche e continuando a erogare prestazioni e terapie che sono per definizione salvavita. Dottor Michele Caporossi, la provincia di Ancone si è giudicata il terzo posto in ambito nazionale proprio per la qualità e questo è un motivo di vanto sia per la provincia stessa ma anche per l'azienda ospedaliera di tutta la regione. Marcangolo in tal senso lo consideriamo un valore aggiunto sia per i professionisti sia per i pazienti. Marcangolo è un'esperienza unica, sono 12 anni che tutti gli oncologi delle Marche si sono organizzati con una rete di fatto anche in assenza di una delibera di costituzione di una rete per intenderci, quindi un qualcosa che è nato dal basso e che ha dato grandi risultati. Ha dato grandi risultati in particolare per il fatto di mettere in grande osmosi le diverse realtà, fare in modo che per esempio le esperienze dell'università, quindi quelle della ricerca, della didattica, della cultura formativa continua ma potessero irrorare tutto il sistema a livello anche periferico, si è creata una forma di grande solidarietà fra le potenzialità di ciascuno nella logica di dire se io ho necessità di concentrare alcuni servizi, alcune attività in un punto, questo lo faccio ma non lo faccio per sottrarre qualcosa agli altri punti, bensì a servizio di tutti i punti. Questa è la rete Marcangolo, una rete che è accompagnata dalla crescita di un'altra cosa unica che è la Marcangola, cioè il sistema delle associazioni dei pazienti, delle associazioni a sostegno dell'oncologia che sono oltre 40 e che in questi 12 anni sono cresciute a fianco appunto alla rete dei professionisti. Gli hanno dato spinta, gli hanno dato forza perché chiaramente i professionisti sono pungolati dai pazienti, dai loro bisogni, li sanno interpretare meglio nel momento in cui li vivono da vicino anche nella forma associativa delle famiglie, di tutti coloro che ruotano attorno a un paziente oncologico. Quindi io vedo un grande futuro per questo. La pandemia è un momento in cui da una parte c'è una grande minaccia, quella di poter, di dover dare una risposta a questo evento cercando di limitare al massimo i danni, cioè gli effetti collaterali. Dall'altra parte la pandemia è una grande opportunità perché è un momento in cui dobbiamo pensare a quelle che saranno le strade del futuro. Ovviamente se il mondo si è fermato per il Covid la ricerca invece oncologica è continuata. Noi oggi andiamo a fare il punto della situazione, andiamo a vedere quali sono le novità e cosa domani troveremo sul nostro tavolo per poter offrire ai nostri pazienti. È importante questo evento, è diventato un evento più che un convegno, un evento culturale in cui facciamo cultura, in cui tutti gli oncologi che si ritrovano nelle marche hanno le stesse indicazioni e domani porteranno nel loro tavolo, nel tavolo di tutti i giorni del loro lavoro, le informazioni che anche quest'oggi andremo a prendere. Il valore aggiunto di questo evento è che continuiamo a fare anche in un periodo così difficile come quello del Covid, la ricerca non si è fermata, l'oncologia ha fatto passi avanti e oggi noi facciamo il punto della situazione, quindi domani troveremo sul tavolo di ognuno dei centri di oncologia delle marche le novità e i nostri pazienti avranno la certezza che sia che entri in un centro che si trovano al sud, al nord oppure in montagna non hanno importanza. Tutti quanti hanno le stesse informazioni, hanno gli stessi farmaci e potremo quindi curare con tranquillità e sicurezza tutti i malati dell'oncologia marchigiana. Le nostre linee guide interne, quelle che abbiamo creato tra i vari direttori di struttura, poi sono diventate le linee che anche le associazioni scientifiche di tutta Italia hanno preso per poter mettere a riparo in qualche maniera i malati oncologici dal Covid e anche gli operatori stessi. Noi abbiamo stilato tutta una serie di linee guida e queste sono state riprese con qualche modifica ma sostanzialmente sono le nostre, quelle marchigiane che vengono applicate in tutta Italia. Dopo 12 anni Marca Angolo viene riconosciuto non soltanto come un congresso locale ma anche come un congresso che è di importanza nazionale. Parteciperanno sia l'Istituto Nazionale dei Tumori sia l'Istituto Pascal che porteranno le loro testimonianze e verranno in qualche maniera a impreziosire questa edizione che riteniamo sempre più importante non soltanto per il tessuto locale marchigiano ma anche per il resto d'Italia. Dottore, con le novità apportate ogni anno da Marca Angolo, quanto possiamo dire in termini proprio probabilistici, di quanto si può essere allungata la vita e in quanta maniera, con quanta incidenza le cure innovative possono aver migliorato la vita del paziente? Di anno in anno è poco, però se tu lo devi vedere in maniera incrementale da quando io ho iniziato qualche anno fa o qualche decennio fa e in realtà le cose si sono modificate profondamente. L'oncologia di una volta, quella che ho cominciato a studiare io, non c'è proprio più, non esiste più. Esiste altre cose, esistono i farmaci innovativi, i farmaci target, l'immunoterapia e tutto questo qui fanno ogni volta, ogni anno un passo in più, qualcosa in più. Diciamo che oramai siamo quasi ai due terzi, i due terzi malati di cancro guariscono, ma non si curano, guariscono, che è una cosa diversa. Poi c'è anche la cura, sempre di più si allungano, per alcune patologie di più, per altre di meno è un po' un elastico, ma noi dobbiamo sapere che nel momento in cui oggi purtroppo ci amarevamo di cancro, abbiamo delle cure totalmente innovative rispetto a quelle che magari abbiamo pensato, ci hanno ricordavamo. Oggi non c'è più, è un'altra cosa, l'oncologia è veramente cambiata. Questa è un'occasione storica per ripensare e ripensarci, un'occasione storica per ripensare completamente anche la scienza, l'approccio con cui la scienza deve rapportarsi con la realtà, con l'umanità e più in generale con l'ambiente, con tutto ciò che ci circonda. Il virus è in qualche maniera la rappresentazione di quella che è una realtà che noi vogliamo ogni volta rimuovere, come per esempio le realtà dei tumori vogliono essere rimosse dalle persone, si continua a dire che è morto di un male, i giornalisti non hanno il coraggio di dire di che male si tratti. Il virus è diventato una cosa di questo tipo, forse ancora più protagonista della scena perché poi è significato in tempi di social che ovviamente la scienza si è mischiata con una divulgazione nella quale la contaminazione è una contaminazione che ha avuto degli aspetti positivi in termini di capacità di divulgare al mondo tutto il microcosmo che ci sta dentro di noi e dentro tutta la natura, ma dall'altra parte ha anche diffuso una marea di fake news, una marea di cose sbagliate. Con la professoressa Raussana Berardi parleremo di oncologia ai tempi del Covid. Dottoressa, cosa comporta in questo periodo particolarmente delicato la realtà proprio dei pazienti e degli ospedali? Come ci si gestisce? L'oncologia è profondamente mutata in questo periodo pandemico. Il 93% delle strutture oncologiche, lo abbiamo dimostrato con un'indagine nazionale che abbiamo condotto durante il periodo del lockdown ha dovuto completamente riorganizzarsi, riorganizzarsi nei percorsi, riorganizzarsi nelle modalità di accoglienza dei pazienti, riorganizzarsi nelle esigenze mutate dei pazienti e degli operatori sanitari. Abbiamo dovuto attivare tutta una serie di misure per prevenire rischi di contagio che vanno dal triage telefonico pre-visita, pre-trattamento, dal triage infermieristico prima dell'ingresso nelle strutture dei dei ospitali e dell'ospedale, che vanno al naturalmente utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale, ma che vanno anche purtroppo nella dolorosa necessità di non far entrare caregiver all'interno del reparto, ovviamente separando percorsi tra pazienti Covid e pazienti non Covid all'interno delle strutture ospedaliere e separando i team proprio per ridurre al massimo il rischio di contagio. Tutto questo ha comportato uno sforzo organizzativo enorme e a cui naturalmente gli oncologi, gli operatori in oncologia hanno reagito con prontezza, con dedizione, con professionalità e spirito di sacrificio e ancora adesso stiamo continuando. È vero che l'oncologia non si è mai fermata, abbiamo garantito sempre le chemioterapie salvavita, però è altrettanto vero che durante la fase di lockdown a livello nazionale, ma più in generale praticamente in tutti gli ospedali, si è ridotta da un lato l'attività chirurgica, dall'altro lato tutta l'attività di radiodiagnostica. Abbiamo sentito l'Osservatorio Nazionale Screening sottolineare come nei primi cinque mesi del 2020 1.400.000 esami di screening siano saltati a causa del periodo pandemico. È evidente che questa riduzione dell'attività radiodiagnostica e la riduzione dell'attività chirurgica ha avuto delle ripercussioni inevitabili sui pazienti oncologici. Oggi in questa difficilissima fase 2 della pandemia le attività non si sono fermate, perlomeno a livello regionale, posso parlare magari per la nostra realtà più da vicino, ma certamente dobbiamo far di tutto affinché non si fermino. Purtroppo l'epidemiologia della malattia ci comporta di dover in qualche modo rincorrere un po' un'evolutività che cambia e quindi delle situazioni che mutano nel tempo. Però credo che a gran voce, come oncologa marchigiana, come coordinatrice dell'IOM regionale, possiamo assolutamente gridare di non abbassare la guardia sul paziente oncologico. Io credo che la riflessione più grande sia che è necessario considerare l'importanza dei professionisti, l'importanza delle persone che lavorano nell'ambito sanitario. Quindi i tagli, soprattutto in termini di personale, credo che sia una cosa più deleteria che ci possa essere, perché la vera risposta che c'è stata in questa pandemia, al di là dell'innovazione tecnologica che magari è continuata, al di là degli studi anche innovativi che con grandi difficoltà sono continuate, ma è soprattutto stato il valore delle persone, di grandi professionisti sanitari che con spirito di dedizione hanno continuato a lavorare, pur che le loro paure, lo abbiamo dimostrato facendo delle analisi a livello nazionale, pur con le loro difficoltà, ma a dare risposte sanitarie alle persone e ai pazienti. Illustissimo Vice Ministro, ci siamo visti poche settimane fa in occasione del nostro incontro a Roma, speravamo di rivederci in presenza, purtroppo questo periodo ce l'ha reso impossibile, però grazie di essere qui con noi a portare la voce proprio dell'istituzione massima al nostro convegno. Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi, a ringraziarvi non per il convegno che fate oggi, ma per questi due illustri che procedete con un convegno nel quale si discute, ci si confronta e si trovano soluzioni per programmare quello che sarà il futuro e quando ho parlato con la professoressa mi ha illustrato tutte le attività fatte, ma soprattutto l'energia che mette su quelle future, diciamoci la verità, perché quelle fatte ormai stanno indietro, ma sono insieme di tutte le cose future che lei mi ha raccontato avere in cantiere e quindi davvero complimenti a tutti voi, perché poi è chiaro che vi è il singolo che porta avanti, ma vi è una squadra dietro che lavora e in silenzio produce questi risultati. Per quanto riguarda l'oncologia ci troviamo in un periodo drammatico, quello del nuovo coronavirus, ma il vero problema crescente è l'accumulo di prestazioni che dobbiamo evadere evadere e recuperare. Sebbene nel 2019 fossero stimati 370.000 casi di patologie neoplastiche, che significa poco più di 1.000 al giorno, con circa 500 al giorno che muoiono di cancro, purtroppo ci troveremo, e questo è un fatto, a partire dal prossimo anno a dover gestire screening oncologici rinviati e saltati, a dover gestire quindi patologie neoplastiche che verosimilmente verranno riconosciute in uno stadio più avanzato, così come ad oggi dobbiamo gestire anche terapie oncologiche che in alcune regioni sono riuscite ad andare avanti come terapie e anche come follow up senza particolari problemi, ma nella sagrale maggioranza dei casi i pazienti e le famiglie hanno vissuto dei ritardi e ovviamente dei rinvii importanti. Ci troveremo quindi dinnanzi una mole di prestazioni da dover recuperare, alcune recuperabili, recuperate magari grazie alla telemedicina, ma per quanto vuoi la telemedicina è una consulenza, è sicuramente un aiuto valido, ma nel caso dell'oncologia, come ad esempio anche l'oncologia chirurgica o laddove di fare della terapia o una diagnostica strumentale, capite che è necessaria un'alternativa che consenta, investendo più risorse, di recuperare questi mesi passati. Un particolare ringraziamento quindi agli oncologi, a tutto il personale sanitario che si occupa di oncologia, ai pazienti, alle famiglie dei pazienti, ovviamente il mio pensiero e alle associazioni che ovviamente hanno un ruolo predominante, soprattutto in questo periodo, perché hanno consentito di fare rete, di fare sistema, di raggiungere i nostri pazienti laddove probabilmente il sistema pubblico o le strutture non riuscivano. E quindi questa minuziosa, organizzata rete territoriale è stata supportata dalle associazioni e ad esempio anche dalle società scientifiche. Andiamo senza indugio avanti dopo aver sentito queste rassicuranti parole del viceministro Sileri con, l'ho nominato poco fa, il magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, anche perché ha dato chiara prova anche l'Università di una grande prontezza di risposta anche in termini non soltanto assistenziali per quanto concerne magari la Facoltà di Medicina nello specifico, ma più in generale formativi. Abbiamo sentito la formazione è importante soprattutto a livello della formazione dei professionisti. Parliamo di oncologia a tempi del Covid, chiaro che la formazione e il ruolo dell'Università sono determinanti. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito Rossana. La prima considerazione riguarda i complimenti a questa dodicesima edizione di Marcangolo. Non è facile mantenere la continuità. Tre sintetiche considerazioni. La prima, voglio evidenziare questa forte integrazione, l'abbiamo fatto più volte, che è emersa anche dagli ultimi stati generali, tra la Facoltà di Medicina e in generale e il sistema sanitario regionale. La seconda considerazione fa riferimento proprio alla giornata di oggi, Sharper, che è la giornata dei ricercatori. È un progetto comunitario, noi siamo inseriti a tantissime altre università italiane, io questa mattina alle nove e mezzo ho dato via a questa manifestazione virtuale che in realtà ha tantissimi incontri, l'ultimo intorno alle 22 questa sera, e questo per evidenziare tre elementi. Uno, l'importanza della ricerca. È stato detto, è stato più volte richiamato, insieme alla formazione, formazione e ricerca sono strettamente interconnessi insieme all'assistenza. C'è un secondo tema, che però è quella della comunicazione, di cui ci siamo molto occupati, e cioè comunicare correttamente la ricerca. Purtroppo anche nei vari talk show, ai quali seguiamo da casa, non sempre questo accade, e la tanta confusione deriva da una limitata capacità di comunicazione, senza necessariamente arrivare alle fake news. Un altro aspetto molto importante però è l'impatto, e cioè far comprendere l'impatto della ricerca, a che serve la ricerca. Questo dobbiamo far capire, perché altrimenti rimarrà sempre una divisione molto forte tra la comunità, tra le persone e il ricercatore, e lì dobbiamo intervenire. L'ultimo aspetto, che è un aspetto ugualmente importante, è evidenziare la necessità di relazioni, non solo tra l'università, ma soprattutto istituzionali pubbliche, perché il valore del pubblico è un valore determinante, e questo non può essere dimenticato. Grazie tantissime. Io andrei avanti con il nostro programma, perché ho alla mia sinistra il direttore generale che ho nominato poco fa degli ospedali riti di Ancona, il dottor Michele Caporossi, era con noi questa mattina per farci un saluto all'apertura del convegno, è di nuovo con noi a testimonianza proprio della sua vicinanza nei confronti dell'oncologia, più in generale oncologia marchigiana, non soltanto di Ancona. Cosa mettiamo in campo, cosa abbiamo messo in campo in questa pandemia per fronteggiare il problema e garantire le cure ai pazienti oncologici, tenendo conto che tanti ci stanno seguendo in questo momento. Ma intanto un caro saluto a tutti, in particolare ai colleghi sia all'interno della Regione Marche, sia ai colleghi Veto Stefano da Milano, con il quale ci siamo scambiati più volte tante belle esperienze dell'Istituto Nazionale Tumori. Un saluto particolare al nostro Rettore, perché noi, devo dire subito questo, abbiamo inaugurato in questo ultimo periodo, nel periodo del Covid, una forma di collaborazione che va al di là di quello che tradizionalmente è la collaborazione all'interno di un'azienda ospedaliera universitaria. Ci siamo sostanzialmente scambiati la pelle, cioè abbiamo detto mettiamo in campo tutti i processi di sviluppo insieme e perché mantenere la separazione fra quello che è il livello della copertura dell'assistenza e dall'altra parte la didattica e la ricerca non ha senso. Ha senso invece una stretta integrazione che significa partire dalla formazione delle risorse umane, lo sviluppo del potenziale della risorsa umana e mettere in campo insieme tutti i processi in forma integrata. Ne cito solo alcuni, in questo senso, che saranno all'insegna dell'oncologia al tempo del Covid e all'insegna del domani e un altro giorno. La telemedicina, in quanto tale, oggi, anche se è andata avanti a sprazzi e secondo una logica a pelle di leopardo, diciamo, in Italia, è ancora un'arma importante, ma lo è ancora di più se pensiamo a coniugarla subito con l'intelligenza artificiale, vale a dire con tutte le forme inferenziali possibili a partire dalla presenza in oncologia a questo punto di big data a go go che sono sullo sfondo e vanno solo organizzati e sfruttati in forma non solo di data mining ma anche in forma appunto di inferenze per costruire dei sistemi che poi possano essere stesi in scala 1 a 1. E questo significa passare dalla logica degli atti, dei singoli atti, delle singole azioni a una logica di rete che è compiuta all'interno del fatto che noi, se abbiamo mille pazienti oncologici col tumore al polmone, riusciamo da quelli a cavare un'inferenza che va molto al di là di quello che è la realtà dei pazienti oncologici. Sul piano regionale possiamo dire che questo può corrispondere esattamente a quello che è la consistenza, la massa critica della regione Marche, ma poi può andare anche oltre. Noi possiamo costruire dei modelli dai quali estraiamo dei contenuti che sono validi sia per l'assistenza, quindi per affinare la capacità di presa in carico da vicino delle persone attraverso il fatto di avere tanti parametri a disposizione sui quali le persone possono essere curate a distanza, sia di affinare tutto ciò che riguarda la capacità di ricerca applicata. Un altro spunto per il futuro è questo. Non ci serve fare delle reti che sono, come dire, cartacee, delle reti che sono semplicemente costruite su un piano formale. Ci serve una rete sostanziale. L'esperienza di 12 anni di marca angolo, ma anche di marca angola, e cioè della contaminazione fra la parte professionale e la parte sociale che riguarda l'oncologia, è un'esperienza che ci dà tantissime suggestioni per il futuro. La vera rete oncologica è esattamente estratta da questo, cioè dal fatto di mettere a fattor comune tutto quello che si è riusciti a costruire e quindi fare in modo di uscire dalla secca di un'autoreferenzialità professionale o di un'autoreferenzialità semplicemente istituzionale ed entrare all'interno di un ambito che è quello, assieme appunto all'applicazione di modelli, come quello che citavo prima, della intelligenza artificiale, di assoluta innovazione. E quindi in questa fase, questa è la fase veramente delle idee, è la fase di buttarsi con il cuore dentro l'innovazione e dentro il futuro. Grazie. Grazie a tutti coloro che si sono avvicendati in questa tavola retonda, ma in questa maratona di una lunga giornata di contenuti scientifici, ma caratterizzata anche dal cuore, dal cuore che i professionisti mettono nelle loro attività, dal cuore delle associazioni che ci supportano e che ci seguono, dei pazienti di cui ci prendiamo cura tutti i giorni. Quindi davvero non posso che dire che siamo soddisfatti di quanto abbiamo realizzato oggi tutti insieme, che la nostra rete continua ad allargarsi, si è allargata con le istituzioni, con le istituzioni sanitarie, con i professionisti, con gli opinion leader a livello nazionale, con gli esperti marchigiani. Renato, siamo rimasti insieme per 13 anni, già programmiamo il Marcangolo 14. Buona serata a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci. Siamo addirittura ad arrivo, le nostre telecamere hanno seguito passo passo il webinar di Marcangolo, dodicesima edizione. Da parte nostra è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.